Ciao a tutti, buon appetito a questo video, amici su Lotus. Oggi, come la titolo, analizziamo il meta dopo circa una settimana dal ban di Violent Harvest in Modern. Era una carta molto molto importante, soprattutto per i mazzi a base Cascade del formato, quindi nella fattispecie Rhino e Living End. Prima di cominciare, vi invito a lasciarmi piace, commentare e iscrivervi sul canale, e soprattutto abbonarvi in maniera più diretta per sostenerci e mandare avanti tutta la bala down. Poi vi ricordo anche il nostro sponsor, fantasystore.it, che col codice scontro TUS5 vi dà il 5% di sconto sui prodotti non già scontati. Approfittatene, perché sono davvero velocissimi a spedizione, e soprattutto hanno tantissimo prodotto oramai di tutti i tipi, anche singole, che stanno piano piano ampliando, quindi daje. Allora, come analizzeremo questo meta? Ovviamente è presto per dire che si è definito, è più un'analisi di quello che stanno pensando di fare i giocatori più competitivi, quindi quelli su MTGO, e infatti utilizzeremo MTGO e soprattutto utilizzeremo una challenge come metodo di paragone e vedere un attimo appunto che sta succedendo. Vedremo la top 16, perché tutti i mazzi un po' troppo, e niente, vediamo se c'è qualche Techspicy. Ovviamente i mazzi doppioni non le rispiego, perché ci sono tipo Yagmoth che compare più volte, massimo le apro entrambi e vedo se ci sono delle differenze. Allora, non è una sorpresa il torneo, l'ha vinto Yagmoth, il torneo tanto hanno fatto il 16, quindi appunto il ban ha rivevenuto l'11, tra l'altro l'11 effettivo direttamente, quindi proprio 5 giorni con il nuovo meta, chiamiamolo così. Yagmoth direi che praticamente non ha cambiato una mazza. Di Spicy, main deck, questa lista non ha niente di particolare. Post Board è anche lo stesso identico mazzo di prima. Non c'è nessuna Techfiga, non c'è niente di particolare, non è cambiato assolutamente nulla. Questo è un mazzo che comunque è sempre potente, non è stato toccato dal ban. Anzi, in realtà, tutti gli ultimi band del Modern, sia quello che ha depotenziato Scam e ora questo, hanno portato questo deck dei vantaggi, nel senso che l'hanno reso più forte togliendo delle bombe agli altri. Si sta parlando un po' di, tra i previ ovviamente, di ribilanciamento, perché la cosa è che Yagmoth è troppo forte e blocca effettivamente tanto i mazzi di creatura. Non faranno niente, ovviamente, adesso per questo mazzo, a meno che non esploda qualcosa di strano, ma adesso non ci sono tornei di Modern particolarmente importanti, mi pare. Ma comunque, vi ricordo che tra relativamente breve esce Modern Horizon 3 e quindi, probabilmente, poi il meta avrà un grandissimo shift. Poi, Grinding Station, posizione numero 2. Vediamo che versione è. Allora, questa è la versione più combo-esque, nel senso che non è la versione tempo, che gioca praticamente le stesse carte di un Murtide Regen 2R tempo, ma, tranne il Murtide ovviamente, perché va in antisinergia con il piano Underworld Bridge e Grinding Station. Questa invece è la versione, come appunto ho detto prima, più combo. Punta a fare varie stappate di Rona. Dato, forse gioca pure la combo questa, vediamo. No, non gioca la combo con... Cioè, sì, ha la combo con Moxamber, che la puoi continuare a stappare quando castighi e quindi fai una pescata in più, eccetera. Comunque, è una versione più combo-esque, come chiusura, infatti, a tassa Sorakol. Può, per carità, chiuderà anche e ti sparo infiniti volte in faccia con l'Underworld Bridge, perché, per carità, può farlo, ma il main plan è finire il mazzo e poi tassa Sorakol e vincere. Bel deck, questo è veramente un combo puro. Cioè, difficilmente vinci di race e danni attaccando l'Hoppo con i vari Ragavan, eccetera, soprattutto in questo meta, che è pieno di creature in grado di bloccare il Ragavan e soprattutto è calato molto, anche grazie a Orkish Bowmaster. Mazzo bello, con un buon piano combo, anche molto resiliente, anche se basta un 8 per il cimitero per, appunto, colpirlo. Però, ha vari modi di riprendersi. Interessante, soprattutto, questa lista. Cosa c'è di interessante? Niente. Non ha gioca nulla di particolare, esattamente strano. È una lista, tra virgolette, stock di questo deck, che non è un tier 1, quindi stock è un parolone. Però, niente di strano. Poi, posizione numero 3, altro. Yagmoth, lo apro solo alla veloce se ha qualche spicy tech, ma no, non ha nessuno spicy tech. Quindi, stessa identica cosa dell'altro deck. Poi abbiamo Dimir 1000. Dimir 1000 è un bel mazzo. Praticamente è un barn, ma anzi che barnarti la faccia, ti barn le carte nel grimorio. Qual è il vantaggio di questo deck? È che i combo deck li fa abbastanza fuori, soprattutto quelli che si basano su determinate carte. Perché gioca main deck, ben due surgical extraction. Macinando tantissime carte, è facile che te la becca. La carta ha almeno una componente della combo chiave e tela sfulcica dall'Igg. L'altro grosso vantaggio di questo mazzo è che è Attachas Hidus Lofter, che è una carta molto, molto forte. Praticamente esili dalla cima del grimorio dell'avversario, finché non fai un totale di mana value delle carte esiliate pari a 20 o più. E quindi capite che i costi, essendo che stanno sempre più contenuti, sempre più umani e efficienti, rende questa carta incredibilmente forte. Poi il fatto di esiliare è molto importante. C'era un'altra carta che faceva questo effetto simile, ma che è blu-nera e macina, tipo funerale mentale, ma il fatto di esiliare è molto, molto importante. Ti permette anche di bypassare cose come gli eldrazi che si sciafflano, ti dà una botta incredibile sul mana value, però almeno l'hai tolto dalle scatole e ti bypassa tanti problemi, soprattutto non aiuti i mazzi come quello di prima, perché quei mazzi macinandoli fa un piacere, perché se poi riesce a fare l'underboard bridge perché non gliel'hai fatto il surgical, lui ha appunto tantissimo con carta in cimitero e può tirare quello che vuole. E quindi questo è davvero un chiodo per tantissimi mazzi. Bel deck, ma non ha niente di particolare se non questa carta di post-board, che è molto forte. Hibernation, tappiteretto, i permanenti verdi tornano in mano agli avversari. Cioè i giocatori, in realtà anche i tuoi, però tu non ce li hai. Per fregare il piano ley line, che adesso è di nuovo bassa potenziato, perché è un'altra stagia rotta ancora viva in modern. Può anche essere utile come random hate, anche per dire, contro Yagobot, un po' di permanenti verdi lì ha, ovviamente, e bounceando in mano evita che vada nel cimitero a fare cose magari rotte. Mono green throne, anche questo stabile come sempre. Tech, niente, nessuna tech particolare, anche qua non è cambiato nulla. Sideboard tutorabile con il Mr. Karn, costo 4, main deck, le varie bombe. Murtai Regent, questo magari è interessante, apriamolo, perché ci sono vari aficionados a questo deck, soprattutto Mengu, che è sempre in prima fila e non vede l'ora di buildarlo a una versione più efficiente. Questo di particolare c'è la Blood Moon main deck, che ogni tanto magari può bar qualche partita, però non è una roba così eclatante. Di questo deck posso però dire che l'interessante ha l'Underworld Breach, questa versione qui. Questa persona qua gioca di interessante due Underworld Breach post-board. Ha delle combo? No, non ha una combo particolare, lo gioca per value. Lo gioca per value perché infatti non vedo, sì, non vedo delle grinding station, altre cose. La gioca semplicemente per value e ti ritira le cose, che ci sta. Bella, è comunque una cartina, è comunque uno snapcast, tra piccolette. Questo è anche un bel deck, ne è uscito potenziato nel senso che comunque sì, non ha subito ban, e non è più il T-1 di una volta, però è molto giocato lo stesso perché ha un gruppo di hardcore fan che proprio come... cioè alla fine questo mazzo è diventato quello che era Jand, cioè Jand non era più il mazzo più figo, ma la gente lo portava lo stesso in Modern perché Statement, cioè io gioco Jand e vaffanculo, cioè in realtà sì, non era solo quello, perché comunque Modern l'esperienza paga tanto e quindi giocare qualcosa che conosci, che è decente nel meta, quindi tier 2 per dire, va comunque benissimo. Meglio che giocare un T-1 male o un T-1 non in pieno delle proprie potenzialità, meglio giocare un tier 2 che lo giochi al 90%, 95%, 100% dello suo potenzialità. Ecco, Jand era così prima ovviamente, Boomer Jand, sto parlando, adesso questo slot di mazzo Boomer che la gente lo porta e basta è Murtain Regent, che comunque non è comunque così bassino di power level come il Jand negli ultimi tempi, quando era ancora decent ma non troppo. Altra cosa che voglio farvi notare di Murtain Regent, ma non è di questo il torneo, ma è giusto per dirvelo, molti stanno splashando verde, molti stanno splashando verde, soprattutto post-board per giocare Pick Your Poison, perché come abbiamo già detto varie volte, Pick Your Poison è una carta straordinaria per il Modern e non solo, infatti piano piano sta iniziando a essere giocata nei vari formati. Poi, Amulet Titan, posizione numero 8, qua di Spice non c'è anche a... Ah, questa è una versione strana, ok? Questa allora è una versione che ho visto anche al Pro Tour, non mi ricordo se era Pro Tour, con l'ultimo torno grosso abbiamo coperto di Modern, che mi pare fosse il Pro Tour. E l'Elesh Norma in deck. Allora, l'Elesh Norma in deck è una carta che è molto figa in questo deck perché ti raddoppia le trigger e tu sei un mazzo che ti basi sulle trigger di entrata e spegne quelle dell'avversario, quindi spegni tanti mazzi, proprio gli impedisci poi di giocare. È anche molto forte per il Mirror perché nel Mirror se tu risolvi l'Elesh Norma è molto difficile che la Teresca togliertela, deve fare per forza Otawara perché non può voltartela con Valakut perché questo spegne Valakut, gli fa permanent, non gli fa creature, quindi gli spegni le Valakut all'oppo. L'unico modo è davvero giocare nell'emozione diretta che probabilmente non c'è o ti bounce la Elesh con Otawara e poi ti scombo. E quindi questo è interessante perché essendo che Amulet Bloom sta aumentando e diventa più forte, anche se non è tutorabile perché l'unica sfiga di Elesh Norma è che non puoi prenderla col patto verde che è il tutore del mazzo, perché prende solo creature verde. È comunque una carta che se peschi, la giochi, contro un modo di mazzi fai gg. È sinergia comunque col deck e quindi ci sta. La provo sì. Io questo deck ce l'ho in Modern, non l'ho solo aggiornato, nel senso che appena l'ho finito è uscito Signore dei Anelli e quindi mancavano i One Ring, perché questo è un mazzo che chiamava proprio grosso come una casa The One Ring. Non solo uno che gioco in Commander, poi non ho comprato gli altri tre perché tanto gioco... cioè non ho più giocato Modern letteralmente. cioè ho montato questo e non l'ho mai portato a un torneo e quindi ho detto vabbè, non me ne faccio niente. Però lo portassi a un torneo, probabilmente giocarei una versione con Elesh Norma perché mi pare molto interessante fa... cioè mi piace proprio come carta. Ed interessante, altra deck che vi voglio far notare è che qualcuno gioca la Sunken Citadel, entra tappata, che in questo mazzo non è un problema perché appunto di nuovo amuleti, scegli un colore e ti dà mana del colore che hai scelto e è anche forte perché tu te la puoi ribounceare con le bounce, le puoi cambiare il colore, poi a tappa aggiungi due mana e puoi spendere questa mana solo per attivare l'abilità delle terre. È molto forte perché ti puoi attivare delle terre come il Garden, come l'Urza Saga, cioè con una terra praticamente fai due mana, cioè con solo quella ti attivi un'attivazione di Urza Saga per fare il pippolo, che quindi è molto molto importante. Ehm, non male. Ehm, sideboard, niente di interessante, se non... Vabbè, qua, interessante a Yasharn che blocca i sacrifici, quindi blocchi Yagmoth, ed è verde, quindi lo puoi proficciare. Ehm, tech contro i mazzi col K-Counter, che è Dromoka Dragonlord, perché è incounterabile 5-7, volare Lifeling, quindi gli altri non possono più, non possono castare spell durante il turno, quindi proprio blocchi tutto, distruggi i mazzi col blu, e basta. Niente, nel resto sono tutte quante cose abbastanza già giocate di per sé. Poi, abbiamo 9 Domain Zoo, Domain Zoo è un mazzo che è stato potenziato, grazie all'introduzione della Leyline of the Beguild Pact, perché ti permette di fare, eh, turno 2, eh, Sion of Draco, che si autodà le sue abilità. Allora, praticamente, se tu hai due terre, ehm, cioè, tu hai una terra sola e hai Domain al massimo, perché tutte le tue terre sono tutto, quindi la, 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 anche la tua fecce è tutto. Ehm, Sion of Draco costa 12, quindi viene scontato, eh, massimo di 10, perché 2 per ogni tipo di terra base, quindi, essendo 5, meno, 12, meno 10, 2, quindi avere meno 2 terre. Ehm, tu butti lo Sion per terra, con 2 terre, e lui dice, ogni creatura che è di determinati colori ha dell'abilità. Di per sé, lo Sion of Draco non si dà l'abilità, perché lui è in colore. Quindi, di per sé, tu fai questa creatura grossa, e per questo si era smesso di giocare il Draco, perché sì, è grosso, non lo facevi rapido, perché non è rapido nel senso di farlo veloce, perché non dovevi fecciare per forza i triomi, eccetera, quindi giocare off curva. Ehm, e ti proteggeva le altre creature, quindi faceva un po' da parafulmine. Qua è diverso, perché invece lui entra e si dà i bonus, oltre che alle altre creature, che è comunque molto forte, anche a se stesso, perché lui, a questo punto, è tutti i colori, perché le linee di Gilpak fa sì che tutte le terre sono tutto, sono isole, più o meno, domain, e tutte le tue creature sono tutti i colori, quindi lo Sion ha tutti contemporaneamente, bianco, blu, e quindi si dà tutti gli effetti, quindi diventa praticamente un 4-4, con l'importante, le principali tipo Hexproof, più altre abilità fighe, quindi diventa praticamente invincibile in combat, Hexproof, First Strike, Lifeline, quindi non lo gestisci più. Molti mazzi non possono rifarci niente, perché non giocano effetti di editto, perché a quel punto l'unico modo è farlo fuori con tipo un editto secco, e quindi vinci. Questo infatti è uno dei motivi per cui giocare Pick Your Poison, poi Spost Board in Murtai Regent, perché una partenza del genere non ci puoi dire niente, perché Hexproof entra turno 0, e tu inizi la partita con Hexproof, se ce l'hai in mano, poi puoi solo dire qualcosa allo Sion of Dracos se hai un counterspell, però se sei on the draw non ce la fai, non c'è modo di counterarlo velocemente con solo umana. Quando entra puoi anche fare delirio veloce, ma tanto c'ha Hexproof e quindi moriresti. Con Pick Your Poison lo mandi sulla luna. E quindi, tac. Perché questo mazzo comunque è un po' così? Perché comunque ha bisogno di questa combinazione di carte specifica, cioè le Hexproof in mano iniziale, più per forza il Draco. se poi magari tieni la mano un po' borderline e ti rispondono in qualche modo al Draco, non c'è più molte robe, e poi soprattutto le Line of the Guild Pack è estremamente antisinergica con se stessa, nel senso che fa schifo la ridondanza. Tu ne devi giocare quattro, perché devi aprirci la mano iniziale per forza, perché il tuo mazzo si basa su quello e averlo velocemente, ma il problema è che se tu ne hai due in mano iniziale fa schifo, perché non ti dà un vantaggio averne due per terra. L'unico vantaggio è sì, se te la distruggono, che almeno dici, vabbè, se mi fa Pick Your Poison non può scegliere Incantesimo, perché mi rimane per terra comunque una Layline, però comunque ti toglierà spesso più il Draco che la Layline, dipende poi dal Bore State e da varie cose, però dipende anche da che rimuvala l'alto, perché magari tu hai Layline e Draco, Pick Your Poison ti toglie Layline e la remuvala ti toglie il Draco, però insomma dipende da varie situazioni. Però sì, questo è il problema principale della Layline, per questo la considero anche a me proprio come carta non piace. E niente, poi vabbè, io sono un value player, quindi la mia opinione conta quello che conta. Hard and Scales, anche questo, mazzo molto spicy, di Tetch non c'è nulla, non sto a parlare troppo, perché se no non voglio neanche farvi un video gigante, solo per vedere mazzi, e niente, non ha niente di particolarmente nuovo, tranne probabilmente Pick Your Poison, ecco, comunque questo è un mazzo a base verde, è colorless nel suo core, perché è un mazzo a creatura, artefatto, Arc Bomb, Ravager, Balista e così via, quindi colorless, ma il colore del mazzo è verde, perché ogni sera è per Hard and Scales, e quindi di base sei un verde colorless come deck, e Pick Your Poison quindi è perfetta. Decide, altra roba interessante, niente, sono tutte carte che si giocano di per sé, questa lista ha scelto di giocare un mono MNAC, con il Decide, probabilmente per il matchup contro Mill, che però non capisco, mi sembra come un matchup, Mill può dirti poco, vabbè, dipende, magari lui vuole essere più sicuro contro Mill, ci può stare. A me sembra un buon matchup, però, Domain Zoo, vari, non vedevi apa, sono uguali, posizione numero 13, un mazzo spicy che non vedevo da secoli, Gruul Scape Shift, allora praticamente questo era anche chiamato Titan Shift, l'obiettivo è fare Rampo, 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 Sakura Tribelder, Farsic, Search for Tomorrow, cioè proprio Rampo classico raga, Rampo classico, cioè Tappo 2, crescita inarrestabile, solo che si chiama Farsic, perché è più bella ovviamente, perché ti prende le shock, e bom, di spicy, questo si giocava già ai tempi così, wish per fare appunto la wishboard, da P3 ti prendi una carta dalla side, punto, e quindi puoi mettere uno scapeshift inside, a giocarne tre main deck, così è come se tu giocassi sette scapeshift, perché giochi quattro wish che possono prendertelo, tre main deck e uno inside, e tra l'altro questo è importante, perché ti aiuta contro mill, perché mill ti fa la surgica lo scapeshift, magari, cioè non te lo può fare, perché vorrebbe sopravvivere, vorrebbe tornarti lo scapeshift, e dici ok fammelo, tanto uno protetto inside, può fare la stessa cosa anche sulla Valakut, però tu lo freghi anche in ambo i casi, perché hai anche una Valakut inside, quindi in ambo i casi lo freghi, perché tanto se tu mi fai surgical su scape, comunque ce n'è sempre uno nella side, se tu mi fai surgical su Valakut c'è comunque uno nella side, e comunque tutte e due di nuovo, comunque ci sono i due protetti nella side, questo è ottimo, per questo è un mazzo lento, che normalmente contro mill già perdi, perché sei lento, più farle surgical è finita, comunque rampo 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 rampo, e ti tiro uno scapeshift, letteralmente non fa nient'altro, tra l'altro questa versione è pure, non la chiama titanshift, ma solo gru scapeshift, che non ha i titani, normalmente questa versione si giocava con i titani, non gioca i titani, perché mette The One Ring probabilmente, più può stare, comunque da tantissimo che non vedevo sto mazzo ragazzi, davvero secoli, 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 davvero tanto, my god, nostalgia, e no, non mi piaceva, quindi nostalgia in realtà poco, poi posizione 14, Gross Vengeance, questo deck ve l'ho presentato in un video passato di Spike, qualche giorno fa, e praticamente ti auto milli con il fallagi, rianimi i pezzi con Gross Vengeance, e tiri una Atraxa, un Gris e Brandt, pescandoti un mezzo mazzo, come tieni il board, tieni il board e la mano dell'avversario usando griffe soli, possibilmente scammate, e magari pure efemerate, basta, cioè il mazzo è letteralmente quello, non c'è nient'altro di particolare, se non carte che ti fanno appunto pesco scatto, come Faithful Mending e Tainted Indulgence, bello, sta salendo un po', e ha raggiunto anche picchi come 10% del meta, alcuni giorni, quindi tenetelo d'occhio, e coro su Vengeance, Ratto Scam, ve lo apro, giusto la veloce, vedo se c'è qualcosa spicy, e poi l'ultimo è Forcororotameshi, che apro già, perché quello è bello spicy come deck, niente di particolare in questa versione di Scam, e la versione stock si gioca tuttora, e niente, mazzo che ovviamente è caduto un po' in disgrazia, perché era più forte una volta, ma la Fury ovviamente, due cose che posso farvi notare di particolare, è che gioca l'uno per della Surveilland, che ci sta, perché magari non tutte le volte vuoi fecciare appunto stappato, e quindi farà il bonus della sorvegliata. Forcororotameshi, allora praticamente è un mazzo che si basa sulla combo, ameshi più Lotus Bloom fra tutti si umana, a Wargate che è una carta molto forte, perché a tappi 3 ti puoi tutorare e mettere dietro in gioco il Lotus Bloom, per come funziona, perché dice Mana Value, cioè che nel mazzo è una carta che ha Mana Value X, lo mette identemente in gioco, Mana Value Lotus Bloom è nullo, zero, perché non parliamo di Mana Cost di nuovo, ma parliamo di Mana Value, che è la differenza sostanziale, è incredibilmente importante, di interessante ha Coltivetro Colosso che fa value e Mena, e basta come chiusura, vabbè sì tantissimo Mana con Tameshi, quindi chiusura nella classica di Sacchietta Amici, che si è giocato sempre fino adesso, e nelle terre penso che se abbiamo magari l'Urza Saga, ce l'ha con questa lista qua, no, è una lista attenzione, questa lista particolare perché non gioca l'Urza Saga, normalmente è una carta spesso molto auto-include in questi deck, perché te la puoi usare in mano con Tameshi, e fare cose, reanimarle, eccetera, però, e niente, questa versione ha scelto di no, mazzo interessante, e penso che sia un po' perché fanatico il giocatore, perché non mi sembra particolarmente, cioè è spicy, però bello, ma non mi sembra che abbia chissà cage in questo meta. Allora, per chiudere questo video cosa vi posso dire? Il meta in realtà praticamente non è cambiato nulla, i mazzi sono tutti quelli da stock che si giocano fino adesso, tra l'altro non ha nessuna carta particolare giocata, per cambi di meta dovuti al ban, l'unica carta che possiamo dire che ha avuto un bel spike, nel senso di numeri, di copie giocate, è Pick Your Poison, però è dovuto a, non al ban, ma è dovuto alla questione della ley line, principalmente, ley line of the guild pack, quindi, di nuovo, una cosa più vecchia di questo ban. E, per il resto, i mazzi sono davvero tutti in stock, non c'è niente di diverso, è ancora presto per vedere magari i cambiamenti per questa banlist, ma prevedo che questa banlist, semplicemente abbia eliminato quei due deck lì, Rhino magari si gioca col bianco, lì vingendo qualcuno prova a giocarlo in qualche versione spicy, ma ci sta, la wizard, secondo me questo l'ha fatto un ban, che a prescindere se siete d'accordo o meno, vi sia piaciuto o meno, è un ban, non per forza sbagliato, ci sta come ragionamento, quello che hanno fatto, ma tanto sono con i sci di moda Horizon 3, e quella è la cosa importante, quindi ragazzi, molto importante questo invece, che consiglio sui acquisti, ma l'ho già detto anche nel video di Spike, non fatevi trascinare, non fatevi trascinare, non comprate adesso, carte a go go, perché vi hanno bannato i vostri dai, novellande potenziati, non giocate più living end, aspettate, a meno che non abbiate torne import, di signi modere, che non potete fare a meno di andare a vincere, ma aspettate, tanto c'è in modo Horizon 3, le cose cambieranno tantissimo, tenetevi da parte il centello, per quello che è, per comprare le carte che usciranno, punto, perché tanto poi il meta sicuramente riceverà un cambiamento molto molto forte, e il set è fatto apposta per quello, è pensato per il modern ed è pensato per cambiarlo, se non lo facesse, sarebbe un fallimento come prodotto, perché non è pensato apposta per quello, è nato per quello, a prescindere che sia giusto o sbagliato, a prescindere che piaccia meno ragazzi, adesso sto dicendo proprio dal punto di vista oggettivo, è nato per quello, quindi se non fa quella cosa lì, vuol dire che c'è un problema di fondo, e comunque se non lo fa, vi prometti i soldi, quindi siete comunque contenti, e vi potete prendere le carte dopo, quindi detto questo ragazzi, vi ringrazio, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo come al solito al prossimo video, ciao ciao, e fate i bravi.